Turismo ecosostenibile e agroalimentare, due priorità per la Sicilia, da dove iniziamo? Io ritengo che l'agroalimentare sia ambasciatore di turismo, chiunque viene in Sicilia a visitare la nostra meravigliosa terra potrà e dovrà conoscere i nostri prodotti e le nostre eccellenze, dall'aglio rosso di Nubia piuttosto che al melone giallo di Paceco passando attraverso i vini Doc, l'olio Doc e farsi portavoce, grazie anche a un sostegno di marketing proprio fornito dalla politica, farsi portavoce delle nostre eccellenze all'estero.